Il candidato premier per il centro-sinistra sarà Pierluigi Bersani, che vince con oltre il 60% dei voti. Dopo aver scrutinato più della metà delle schede, il segretario del PD era al 60,84%, mentre il suo avversario, Matteo Renzi, era al 39,16%. Bersani festeggia la sua vittoria al Cinema Capranica a Roma, dove è stato accolto dagli applausi dei suoi sostenitori, commentando così Per me è una doppia soddisfazione. La prima è aver creduto fortemente e voluto testardemente. Le primarie aperte. La seconda per il successo inaspettato in queste proporzioni, anche se sono sempre stato tranquillo. Successivamente ha voluto ringraziare Renzi per la telefonata ricevuta dopo la vittoria ed ha riconosciuto al sindaco di Firenze una presenza forte e fresca che ha contribuito a dar senso alle primarie e le ha fatte vivere in modo vero. Ancora un paio di giorni e si comincia con la battaglia vera, ha dichiarato Bersani, ricordando che si combatterà insieme perché non ci sarà un uomo solo al comando, qui si governa con il popolo. Intanto Renzi su Twitter scrive Era giusto provarci ed è stato bello farlo insieme, grazie di cuore a tutti. Ed intervenendo alla conferenza stampa alla Fortezza d'Abbasso a Firenze, sede del suo comitato per le primarie del centro-sinistra, commenta dicendo A Milano è stato accoltellato un 35enne militante di un centro sociale all'interno di un corridoio della metropolitana della stazione centrale. L'uomo che al momento si trova ricoverato all'ospedale San Paolo ha dichiarato di essere stato assalito da due nazi skin. La sua versione è ora al vaglio degli investigatori della Digos che si occupano del caso, mentre il giovane, dopo essere stato sottoposto ad un'operazione chirurgica, è fuori pericolo. Una voragine e tre feriti a Miano per il maltempo. Una Fiat 600 con il conducente e due passeggeri, tra cui una ragazza di vent'anni, paraplegica, precipitano dentro la voragine apertesi in via Liguria, nella periferia a nord di Napoli. Anche un crocifisso, posto all'interno di una edicola votiva e molto caro agli abitanti del quartiere, è stato indiottito nello sprofondamento. L'erogazione dell'acqua e dell'energia elettrica è stata interrotta. C'è stata paura tra i residenti in seguito ad una rilevante fuga di gas, ma il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato questo ed altri pericoli. Era questa la nostra ultima notizia, grazie a tutti per l'attenzione e un cordiale buongiorno.